Però scusi signor Champagni, stasera lei che cosa ha intenzione di giocare? Quanto ha intenzione di giocare? Ah no, stasera avevo tranquillo un 3k, 3-4k 3-4mila euro 3k sono 3mila euro, se non sa cosa vuol dire 3k ma dove vive scusi? Cioè dove vive? Lei vive guardando Sanremo, ma dai ma di cosa parliamo? 3-4k, 3-4k, ma hai intenzione di perderli tutti? No, perché devo perdere? Vorrei vincere Beh anche perdere come abbiamo detto al suolo Totalmente diseducativo Quando trovo l'autostrada chiusa non è tanto che mi fa uscire Ah ti incanzi un po' di te Allora se vinco mi dà fastidio perché ho fretta di ballarmi i soldi Perché io se vinco devo subito andare a spenderli Subito Se non faccio tardi, non so, 2-3 botti di champagne, qualcosa Subito, subito, i soldi mi scottano, mi scottano in mano, mi scottano in tasca Mi bruciano in tasca Se invece perdo, vabbè, noi, io e Nevio, anche se perdiamo, siamo tra virgolette contenti Il viaggio lo faccio di ritorno all'allungo di mezz'ora Due disadattati, due pazzi, imbecilli Ma che disadattati Che disadattati Anzio, uno dei soldi fa quello che vuole, ricordate Questo ci mancherebbe altro, ma fare castelletti Quello che vuole, incitare al gioco Dire che vuole spendere la fresca Appena le acqua di me li bollono in tasca Siete due idioti Non vi bollono in tasca Vi bollono in cervello Spendere la fresca Grazie a tutti Grazie a tutti